Sta nascendo, c'è una richiesta forte dei partiti, almeno una richiesta di centro da parte dei partiti e nel nome di Draghi si vuole lanciare una cosiddetta offerta politica. Le voglio chiedere, lei esclude che nel 2023 possa essere il federatore di questa coalizione che può nascere di centro? E una domanda sempre collegata, se la sua squadra, la sua squadra dei ministri la ritiene efficiente e se qualche partito dovesse chiedere un impasto lei lo concederà. Grazie. Dunque, alla prima domanda le rispondo in maniera totalmente chiara, lo escludo. Vorrei anche aggiungere un'altra cosa però. Ho visto che tanti, diciamo anche tanti politici così, mi candidano a tanti posti in giro per il mondo mostrando una sollecitudine straordinaria nei miei confronti. Io li ringrazio molto, li ringrazio moltissimo, ma tra l'altro vorrei rassicurarli che se per caso decidessi di lavorare dopo questa esperienza, probabilmente un lavoro me lo trovo anche da solo. Ma questa è una risposta. La seconda è no, la squadra è efficiente e quindi va avanti. Grazie.